Le macchine agricole, mezzi spesso di dimensioni rilevanti, circolano frequentemente su strade aperte al pubblico, in particolare durante specifici periodi dell'anno, e costituiscono un potenziale pericolo per gli utenti della strada. Proprio per questo, la normativa in tema di macchine agricole è stata approfondita in un incontro di aggiornamento che si è tenuto al comando della Polizia Locale di Pordenone. Oggi abbiamo inizio ad un corso specifico sulla circolazione delle macchine agricole. È un argomento molto importante che abbiamo voluto estendere anche ai colleghi delle Polizie Municipali della provincia di Pordenone e alle forze di Polizia dello Stato. La circolazione delle macchine agricole è un argomento poco conosciuto, difficile e soprattutto che molte volte ha portato a situazioni di difficoltà operative. Noi, con questo momento di aggiornamento molto molto importante e tenuto soprattutto da una persona molto molto preparata, riteniamo di supplire a questa situazione che riguarda tutte le forze che operano nel campo della Polizia Stradale. Oggi tratteremo la tematica delle macchine agricole per quanto riguarda la normativa, il codice a strada, facendo dei collegamenti con il testo unico sulla sicurezza, l'81 del 2008, che è entrato anche quello a integrare alcuni aspetti relativamente alle macchine agricole su strada e in azienda. Quindi la problematica di oggi è far conoscere a dei professionisti su strada l'attività di controllo che deve essere fatta, visto che per le aziende agricole abbiamo macchine che hanno 50-60 anni e quindi c'è la problematica di capire i vari collegamenti tra vecchio codice e nuovo codice a strada.